Musica Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto in studio, Alessandro Ranieri. I carabinieri della compagnia di Senigallia hanno arrestato due senigalliesi di 41 e 33 anni, entrambi disoccupati e già noti alle forze di polizia, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione. I carabinieri appostati in via De Filzi hanno atteso l'arrivo dei due, che alla vista dei militari hanno cercato di rifugiarsi all'interno di un condominio. Braccati dai militari mentre salivano le scale, i due hanno tentato di disfarsi di piccoli involucri di cellofan che hanno lasciato cadere in un vaso. Si trattava di due involucri contenenti 4,5 grammi di eroina e circa 2 grammi di cocaina. Ladri di nuovo in azione nel centro storico. Dopo il colpo messo a segno nel caffè La Bicchia, situato in Piazza del Duca, stavolta i malviventi hanno concentrato le loro mire nel negozio Edgy Shop di via San Martino. A fare la spiacevolissima scoperta è stato il titolare, che nella mattina del 5 ottobre si è trovato la porta a vetri dell'esercizio sfondata, presumibilmente a colpi di mazza. Dopo la pinetina della stazione sarà il turno di alcuni alberi presenti a Marzocca, che rappresentano un potenziale pericolo per i cittadini. Ad annunciarlo sui social è stato il sindaco Maurizio Mangialardi. La prossima settimana bisogna battere tre pini di 15 metri e 60 anni, a Marzocca ha scritto il primo cittadino. Pochi giorni fa nella frazione senigallese era caduto un grosso albero. In quell'occasione fortunatamente nessuno era rimasto coinvolto. Il sindaco ha spiegato quindi che quando le piante sono pericolose, per la pubblica incolumità è necessario rimuoverle. Nella mattinata del 5 ottobre Elsa Ravaglia, prima firmataria della petizione per bloccare le motoseghe alla pinetina, ha voluto lo stesso consegnare le oltre 1.500 firme raccolte, un terzo delle quali dopo che gli operai avevano iniziato a sorpresa a tagliare gli alberi. Nuovo gioco per i giardini Lorrac, in via dei Gerani, nella zona delle saline di Senigallia. Nei giorni scorsi è stato rimosso il vecchio scivolo, probabilmente danneggiato e diventato pericoloso per i bambini. Al suo posto ne è arrivato uno nuovo. Continuano dunque i lavori di miglioramento e ampliamento delle attrezzature nei parchi dopo l'arrivo di nuovi giochi anche al Parco della Pace nei mesi scorsi. Il Comitato di Senigallia della Croce Rossa e la Protezione Civile Regionale Comunale impegnati nel fine settimana in una esercitazione di due giorni. Tutta l'organizzazione si servirà come punto di riferimento delle strutture del Centro Operativo Volontariato delle Saline. In questa occasione i nuovi volontari, coadiuvati da quelli più esperti, dovranno dimostrare le loro capacità operative in vari momenti e situazioni tra i quali la simulazione di un terremoto per testare quanto appreso durante il corso. Figura discussa, figura amata, figura indimenticabile. Stiamo parlando del medico, combattente, poeta, scrittore, rivoluzionario Ernesto Guevara, detto il CE. Il Circolo di Senigallia dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, per ricordare il cinquantesimo anniversario dell'assassinio del comandante, organizza una rassegna che si svolgerà a Senigallia dal 7 al 15 ottobre. Con questo è tutto da Alessandro Ranieri, buon proseguimento ed ascolto.